Benvenuti a TG Pro, appuntamento settimanale con le notizie dalla provincia di Ancona. L'autocostruzione di Senigallia piace e diventa modello da esportare anche al di fuori dei confini regionali. È quanto dimostra la visita di una delegazione del Comune di Arezzo al cantiere del Cesano svoltasi nei giorni scorsi per approfondire gli obiettivi del progetto Le Mani per Vivere Insieme e vedere da vicino lo stato di avanzamento dei lavori dei nuovi 20 alloggi riservati per metà italiani e per metà immigrati, giunti ormai a oltre il 50% della realizzazione strutturale. È un progetto innovativo, un progetto sociale che sta facendo a scuola. Stamattina siamo qui con il Comune di Arezzo che è venuto a fare quella che è un'operazione di benchmarking sociale, mutuare delle buone pratiche. Un'autocostruzione fatta per italiani e per immigrati, pari diritti, pari doveri e pari opportunità. Ecco, crediamo che non si tratta solo di fare case ma di fare una società nuova. La Regione Toscana sta uscendo con un bando proprio sull'autocostruzione, quindi noi vorremmo essere pronti a intercettare questi finanziamenti in un territorio come quello di Arezzo in cui ci sono molte problemicità in ordine alle giovani coppie, quindi vorremmo anche nei loro confronti avere un'attenzione particolare. La provincia conferma il suo impegno a favore dell'ampliamento dell'istituto Van Vitelli Stracca Angelini di Ancona al momento bloccato dal patto di stabilità e quanto emerge da un incontro tra la presidente Patrizia Casagrande e la preside della scuola Paola Guidi. Noi non abbiamo cambiato programma, l'abbiamo solo come spesso accade nelle programmazioni dovuto frenare per mancanza di patto di stabilità che ce lo consenta, nel senso che abbiamo consumato prima che in agosto arrivasse la manovra la possibilità di spesa come era giusto che fosse mettendo in campo tutti gli interventi previsti nella prima parte dell'anno, nel primo semestre. Il lavoro dell'Angelini di Van Vitelli Stracca programmato per settembre ha tutti i permessi, compreso quello di costruzione e anche le cifre accantonate. Nonostante la verticalizzazione e la regionalizzazione del patto di stabilità della regione, noi non riusciamo ancora a spendere questa cifra, si tratta di un milione e mezzo che non solo viene mantenuta e consiste anche di, insieme a altre due opere, della priorità delle priorità. Ammonta 61 mila euro il contributo per progetti finalizzati allo start-up e all'implementazione della raccolta differenziata nei piccoli comuni che nel 2010 non hanno raggiunto la soglia del 50%. Le azioni da finanziare riguarderanno l'estensione sia delle zone di raccolta che delle categorie di rifiuti e interesseranno 6 comuni del bacino 1 e 16 del bacino 2. Gli effetti della politica agricola comunitaria sulle aziende marchigiane sono stati al centro di un convegno promosso a Senigallia dalla CIA che denuncia il taglio dei fondi europei e il crollo dei redditi. Tante però anche le proposte presentate per il rilancio del settore, a partire dal sostegno al ricambio generazionale e dall'agevolazione dell'accesso al credito per i più giovani. La nuova proposta ci trova non concordi come organizzazioni professionali ma credo anche in senso generale a tutta l'agricoltura perché uno va a ridurse il budget rispetto alla programmazione 2007-2013 di circa il 20%. L'altra cosa che critichiamo è perché noi volevamo che la nuova programmazione andasse a premiare soprattutto le aziende professionali e giovani, cioè chi effettivamente vive del settore agricolo, mentre invece è una proposta che ricalca un po' la precedente che spalma i soldi, chiamiamola la pioggia, un po' a tutta l'agricoltura, ma soprattutto va a premiare soprattutto le agricolture di Germania, Francia, Inghilterra. Questa era l'ultima notizia, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Buona giornata! Grazie a tutti!